Oggi ho cambiato postazione, mi metto qui. Signori, diciamo la telenovela più lunga di questo calciomercato estivo della Juventus è finalmente andata in porto per loro ovviamente. Anzi la Juve e Tiago Motta stanno costruendo una corazzata, vogliono veramente rivincere lo scudetto a tutti i costi perché oltre al fatto che si è visto anche nelle prime due partite di campionato contro Como e contro Verona, Tiago Motta sta lanciando tantissimi giovani. Io non so se ci avete fatto caso a questo dettaglio della partita contro il Verona che la Juventus ha vinto 3-0. Il più anziano in campo era probabilmente Bremer che aveva 27 anni. Il più anziano della Rosa che era in campo in quel momento dal primo minuto era Bremer che aveva 27 anni. Quindi vi fa capire il fatto dei giovani quanto conti per Tiago Motta. Però adesso hanno preso il colpo dell'estate, il colpo che molto probabilmente gli varrà di sicuro il titolo di centrocampo più forte della Serie A perché ragazzi hanno costruito una squadra incredibile. Soprattutto a livello di centrocampo hanno voluto trovare certezze che non avevano negli anni scorsi perché il centrocampo è sempre stato un punto debole della Juventus negli scorsi anni che magari è mancato sempre quell'elemento in più, è mancato sempre magari quel giocatore che non riusciva a completare il reparto perché magari gli anni scorsi Rabiot e poi magari Locatelli che però era stato preso per essere il titolarissimo ma non è mai riuscito a entrare benissimo al 100% nelle gerarchie. Idem, McKennie, McKennie sempre tutti gli anni cambiare di ruolo, adesso fa la riserva. Insomma, Fagioli che ragazzino chiaramente però tutti i suoi problemi diciamo non al di fuori del mondo calcistico non gli hanno permesso diciamo di giocare il titolare, ad oggi chiaramente con dei nuovi innesti così importanti quali Douglas Luiz oggi che sosterà appunto le visite dei Medici domani, Coopminers, poi anche Kefren Turam, ci aggiungiamo anche sempre Locatelli, Fagioli appunto la Juventus sta costruendo una squadra per cercare di eguagliare diciamo il primato dell'Inter in Serie A perché l'Inter ad oggi comunque rimane la squadra da battere nonostante comunque c'è un Napoli che con Conti io sono convinto che si rilancerà tranquillamente per i primi posti nonostante una partenza appunto brutta che ci sia un Atalanta che spinge tanto ragazzi, l'Atalanta, nonostante io sono convinto, nonostante la sconfitta contro il Torino che, apriamo e chiudiamo una parentesi, ha costruito una bella squadra e ha un bel progetto sono convinto che l'Atalanta se la giocherà fino all'ultimo per gli ultimi posti Champions però la Juventus quest'anno ha fatto un colpo incredibile in primis in panchina perché quello è il colpo migliore ma per una cifra di 52 milioni più 7 di bonus, quindi per un totale di 59 milioni si accaparra uno dei centrocampisti migliori della Serie A che praticamente può fare tutto il reparto, soprattutto la zona offensiva perché i gol messi al referto gli anni scorsi fanno capire che è un giocatore che a livello offensivo soprattutto a livello di centrocampo ha pochissimi rivali sotto quel punto di vista era un'operazione che si poteva fare praticamente fin da subito c'era solo da definire le cifre l'Atalanta comunque avrebbe voluto tenerlo fino all'ultimo ma il giocatore per vari motivi insomma comunque tante scaramucce del cazzo a me sono sempre state sui coglioni questi tipi di trasferimenti perché anche a Firenze se ne sono visti tanti negli anni i falsi certificati medici insomma quindi tutta quella roba che mi sta veramente sui coglioni ormai i giocatori possono permettersi tra virgolette di fare un pochino quello che cazzo vogliano per cercare di arrivare magari in un'altra squadra nonostante sono sotto contratto diciamo mettere sotto scacco la propria società è una cosa veramente brutta però nel mondo del calcio di oggi funziona così ormai i calciatori sono più aziende che veri e proprie pedine tra virgolette o comunque dipendenti della società se un giorno decidono che vogliono cambiare nonostante la società ti voglia tenere non c'è cazzi che reggano però comunque a parte questo l'Atalanta si perde il miglior centrocampista che hanno perde il miglior centrocampista che hanno ma comunque sono convinto che Gasperin lo riuscirà a sostituire in modo egregio come ha fatto fino ad adesso bastato vedere appunto gli acquisti di Reteghi e Brescianini che sono stati letteralmente messi in campo il giorno dopo che sono arrivati e hanno dato subito mostra al mondo intero non solo la Serie A che l'Atalanta se vuole qualcuno e vuole sostituirlo può sostituire anche il giorno dopo con uno giocatore appena arrivato però a parte questo appunto la Juventus prende il miglior centrocampista che può prendere adesso in Serie A a parte appunto quelli dell'Inter che quelli lasciamoli perdere sono convinto che sarà un bel campionato fino alla fine mia personale opinione la Juventus quest'anno è la squadra da abbattere non è l'Inter quest'anno la Juventus è la squadra da abbattere perché chiunque venga messo in campo nelle mani di Tiago Motta diventa una pedina funzionale mettiamolo così funzionale anche i giovani della Next Gen diventano delle pedine funzionali e adesso che piano piano la Juventus ha creato la sua rosa titolare sono convinto che diventerà una corazzata veramente forte da abbattere sarà molto difficile quest'anno soprattutto anche allo Juventus Stadium sarà veramente difficile riuscire a abbattere questa Juventus non bisogna diciamo prendere in considerazione gli anni scorsi perché la Juve di Allegri ormai non c'è più questo è proprio un altro ciclo è proprio un'altra squadra lo abbiamo visto anche con il calciomercato di quest'estate la Juventus ha cambiato talmente tante pedine proprio anche per dare un messaggio sia alla rosa che ai tifosi che al resto delle squadre della Serie A di voler proprio dare un cambiamento sostanziale alla maggior parte della rosa perché poi alla fine la maggior parte dei giocatori sono cambiati quindi fatemi sapere la vostra sotto in mente ragazzi però Coop Miners per me è un colpo da 9 minimo minimo 9 perché a meno di grossi infortuni che gli possano precludere la maggior parte della stagione sono convinto che renderà al 100% nelle mani di Tiago Motta diciamo non rimpiangeranno i tifosi della Juventus il colpo da quasi 60 milioni ecco Grazie.